Ultimi giorni per i partiti per chiudere le liste e trovare la quadra sui nomi dei candidati che si sfideranno nelle urne il 25 settembre. Dopo le roventi polemiche sulle candidature del PD, anche il centrodestra sta per chiudere le liste, condizionate dalla riduzione del numero dei parlamentari. È chiaro e evidente a tutti che nel momento in cui si vota un taglio dei parlamentari, si sa che ci si espone poi a una minor rappresentanza. Anche se, alla luce dei sondaggi favorevoli, nella coalizione di centrodestra Fratelli d'Italia non dovrebbe avere i problemi degli alleati, non solo per le riconferme degli uscenti. Noi contiamo di chiudere le liste entro oggi, massimo domani, per poi poter presentarle nei due giorni nei quali è prevista la presentazione in corte d'appello. Si lavora dunque la composizione della squadra, a brevissimo i nomi. C'è l'affidabilità, cioè la classe dirigente che da anni ha lavorato su questo partito quando non ci credeva nessuno. C'è una quota parte di ottimi amministratori che hanno dimostrato proprio col lavoro sul territorio la loro capacità. E poi c'è anche una quota parte di affidabilissimi professionisti che oggi rappresentano quel valore aggiunto che un partito che si candida a guidare questa nazione deve sicuramente avere tra le proprie fila. Quindi un giusto mix. Criteri ben precisi, quelli che guidano la composizione delle liste di azione nel terzo polo con Italia viva. Il primo è assolutamente la competenza, cioè il fatto di saper fare qualcosa, di averlo dimostrato nella propria vita professionale e di volerlo fare a livello nazionale. Il secondo criterio è quello della novità, siamo un partito nuovo e ci teniamo, perché siamo nuovi anche come modalità di porsi, oltre che come selezione della classe dirigente, e questo vogliamo rappresentare con le candidature. Terzo criterio ovviamente è la rappresentatività del territorio. Noi abbiamo moltissimi amministratori, magari di civiche, qualcuno proveniente da altri partiti, sia dal PD sia dal centrodestra, delusissimi dal PD che è diventato questa specie di Macedonia, di proposte diverse contraddittorie tra di loro, e da un centrodestra che ha tradito il suo elettorato, particolarmente in Veneto, proprio buttando giù il governo Draghi, per esempio, e che si stanno avvicinando a noi, e quindi stiamo ragionando con loro. Intanto esprime soddisfazione il Movimento 5 Stelle, che ha visto oltre 50.000 iscritti votare alle parlamentarie online, per decidere chi proverà a farsi eleggere a settembre. La lista dei 15 candidati proposta dal presidente Conte passa con l'86,54% dei voti.